38 comuni pesaresi al voto per le elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno, un terzo di quali non avranno però sfida elettorale al di fuori della battaglia con l'astessionismo dal voto. Ci sono infatti 14 comuni che hanno presentato una sola lista con candidatura a sindaco e consiglio comunale. L'elezione dunque, per reputarsi valida, ha bisogno di un'affluenza alle urne che raggiunga il quorum del 40% degli aventi diritto al voto per scongiurare il commissariamento prefettizio. Sarà così per Tavuglia, dove l'unico candidato è l'assessore uscente Patrizio Federici, così come si candida al terzo mandato Enrico Rossi a Cartoceto. Tentativi di ricandidatura in solitare anche per Alessandro Urbini a Piobbico, Romina Pierantoni a Borgopace, Mauro Dina Lunano, Daniele Tagnani a Frontone e Elia Rossi a Montegrimano Terme. Aspira al terzo mandato anche Emanuele Petruccia a Monbaroccio, che ha anticipato alcuni obiettivi della sua lista civica ancora più avanti nel segno della continuità. La continuità sui lavori recupero dalla palestra comunale, la continuità su quella che è la mobilità sostenibile, quindi un comune che permetterà di essere percorsi in sicurezza, ma nella sostenibilità di un percorso e della valorizzazione del suo territorio. Penso ai percorsi naturalistici, penso al Beato Sante, penso al nostro santuario che potrebbe essere un oggetto e un punto di riferimento per i cammini di fede, che sono un altro argomento importante sia a livello turistico che a livello culturale. Pensare a un comune ecosostenibile, quindi in un percorso legato all'efficienza di un territorio che vada nella direzione di una riduzione di spesa, ma comunque pensare all'ambiente. Un territorio che comincia a guardare bene al di fuori di quello che è il suo confine territoriale dei 28 km2 per continuare a condividere percorsi, penso alla ciclovia che abbiamo condiviso con Pesero e con Fano. Quindi tutta una promozione che ci vede coinvolti, ancora più quest'anno con Pesero 2024, che vedrà in luglio capitale anche per Monbaroccio, nell'ottica di valorizzazione di Palazzo del Monte in primis e del Beato Sante poi. La lista di candidati a sindaco in solitaria si allunga poi a Marzio Massi a Fratterosa, Marco Marchetti a Sant'Ippolito, Federica Battazia a Belforte a Lisauro, Livio Tallozzi a Peglio, Davide Giorgio Sorgine a Monte Cerignone e Maurizio Marotesi a Monte Felcino.